Disagi per molti e vantaggi per pochi, secondo un'inaccettabile discriminazione sulla base della ricchezza personale. Non si placano le polemiche sulla riforma della ZTL paventata dalla Giunta Giordani, ma ora alla levata di scudi contro il rafforzamento della ZTL a Padova, con varchi attivi 24 ore su 24 ed una sorta di tassa d'ingresso tra i 5 e i 10 euro. Al coro di cittadini e categorie si uniscono anche le voci critiche tra chi a giugno si era schierato a sostegno dell'attuale maggioranza. È un approccio che noi riteniamo punitivo e che non sia volto a propugnare virtuosi modelli di comportamento nei cittadini, ma semplicemente di sanzionare modelli di comportamento ritenuti poco opportuni. Insomma da un lato un centro pregiato e tutelato ad uso di chi può, dall'altra una grande periferia priva di adeguate garanzie di vivibilità. Una repressione ingiusta secondo Grinzato che peserebbe soprattutto su chi non può pagare il pedaggio d'ingresso alla sua città e dalle conseguenze potenzialmente negative. Il rischio è che si sposti il traffico che attualmente si può trovare in ZTL o nel centro, nelle aree limitrofe, con ciò non risolvendo ma spostando il problema e soprattutto creando disagi tanto a chi nelle aree limitrofe vive e lavora quanto a chi in quelle aree deve lasciare le macchine private, i mezzi privati. Di fronte a questo progetto parlare di mancata condivisione con i cittadini passa addirittura in secondo piano. Il problema principale in questo sta ancora nella mancanza di progettualità ampia.